Ben trovati amici all'ascolto e alla visione dell'informazione raccontata a cura della redazione di Sicra Press. Oggi ho il piacere di ospitare un amico nonché un professionista catanese, l'architetto Sandro Amaro, già presidente dell'Ordine degli Architetti di Catania per parlare di alcune questioni emergenziali di questa città, di questo territorio. Bentornato a Sandro Amaro. Grazie, buonasera a tutti. Io partirei dall'emergenza rifiuti, lo so che la domanda è da un milione di dollari, qual è la soluzione? Sandro Amaro. Beh, è un'emergenza che stiamo vivendo a Catania, ma credo che non sia solo Catania, ma anche tutte le città e i paesi della provincia e non solo, causato da un problema che è molto semplice. Vediamo tutta questa spazzatura accumulata e sta lì nelle strade perché le discariche ormai sono esaurite. C'è stato qualche mese fa, c'è stato anche lì un momento in cui avevamo la città piena di spazzatura perché per nove giorni le discariche sono rimaste chiuse e quindi la spazzatura è un rifiuto speciale, quindi non puoi raccoglierla per portarla chissà dove. E quindi il problema è proprio strutturale, cioè dobbiamo entrare nell'ottica di tema, ci saremmo dovuti entrare già da qualche decennio e lì è sempre una questione di programmazione e di pensare che la spazzatura, visto che la produciamo in qualche modo, dobbiamo smaltirla. e oggi lo strumento migliore sicuramente è quello del termovalorizzatore che se ne parla da qualche anno ma ancora non si è realizzato materialmente, si parla di avere tre termovalorizzatori in Sicilia che sicuramente non solo ci risolverebbero il problema della spazzatura ma produrrebbero energia, perché il termovalorizzatore che non ha nessun problema di inquinamento, questo sfatiamolo perché poi il problema nel momento in cui si parla di termovalorizzatori, tutti abbiamo il problema della spazzatura ma nessuno vuole il termovalorizzatore nel suo territorio e quindi non ce la possiamo, tra virgolette, mangiare la spazzatura. La differenziata che sarebbe anche utile e ridurrebbe il carico non viene fatto, si sta tentando ora, sempre che a Catania deve partire di colpo. Anche questa scelta di dire in cinque giorni parte la differenziata non è così semplice. Il famoso porta a porta. Perché poi accade quello che sta accadendo anche a Catania che magari alcuni abitanti dei paesi dove si fa la differenziata magari nello scendere la lasciano a Catania, la spazzatura perché lo trovano i cassonetti. Quindi l'obiettivo dovrebbe essere quello del termovalorizzatore. Abbiamo tantissimi esempi in Italia ma poi all'estero diciamo il termovalorizzatore oltre ad avere la funzione il termovalorizzatore diventa anche un elemento di architettura o diventa, uno degli ultimi esempi è quello di Copenhagen dove vediamo, forse qualcuno non sa che è un termovalorizzatore in una delle pubblicità di una macchina, non ricordo quale, casa automobilistica dove sulla copertura di questo termovalorizzatore c'è una pista di sci che si può usare d'estate e d'inverno oltre ad avere poi dentro il ristorante e tutto. Quindi non è un problema il termovalorizzatore. Il problema siamo noi che non riusciamo a imporci e ovviamente in questo caso la regione non riesca a dare un impulso e fare un investimento preciso per realizzare l'opera. Secondo Sandro Amaro devono essere i privati a realizzarlo o la regione? Lo può realizzare la regione ovviamente a dei costi, lo possono realizzare i privati, questo non credo che ci sia molta differenza, forse se lo realizzano i privati il percorso è più veloce, potrebbe essere più veloce perché poi ne hanno la gestione, anche lì la gestione dei rifiuti è un business perché dove è fatta bene diventa un business. Per esempio vedevo l'altro giorno un video dove a Berlino all'interno dei supermercati c'è una specie di distributore al contrario dove tu puoi portare le bottiglie di plastica, le bottiglie di vetro, le lattine, quindi dove vai a buttare queste cose e il distributore ti fornisce uno scontrino che tu in tempo reale, cosa che per esempio non accade qui quando portiamo nelle aree differenziate che ci sono, le isole ecologiche, ti dà uno scontrino che tu lo porti alla cassa e la cassa ti dà o direttamente i soldi o lo puoi utilizzare per la spesa di quel mare, quindi subito spendibile. Tant'è che mi diceva un amico che era stato di recente a Berlino che le persone merambianti non ti chiedono più le monete ma ti chiedono le bottiglie vuote perché poi loro le vanno a portare là e quindi questo anche nella nostra città dove c'è tanta difficoltà è un metodo per fare differenziate in maniera intelligente. Noi magari le portiamo all'isole ecologiche e aspettiamo poi che in questa famosa bolletta dovremmo trovare questa riduzione che spesso non si vede perché poi parliamo di pochi euro però in un momento è fatto subito in presenza potrebbe essere utile e magari qualcuno andrebbe in giro per la città a raccogliere le bottiglie di plastica buttate a terra per andare a recuperare. Quindi le modalità ci sono, esistono, non capisco perché non riusciamo, anche gli stessi centri grossi supermercati potrebbero aderire a una situazione di questa. La passatura fa economia. Fa economia, è una risorsa, quello che forse non si è capito dalle nostre parti e ha sollevato anche ilarità oltre che qualche polemica la suggestiva proposta di Lanfranco Zappalà, vicepresidente del Consiglio Comunale di Catania che è stato anche ospite dell'informazione raccontata che diceva intanto di toglierla dalle strade cittadine e depositarla in un luogo periferico di proprietà del comune. Ma insomma non è così facile. Sì, ho sentito, ma non è così facile. Non so se era, immagino, una provocazione però in realtà da un punto di vista normativo non puoi prendere la spazzatura anche se è temporaneo e metterla su un terreno senza che questo sia preparato ad accogliere perché ovviamente poi gli sversamenti e poi sappiamo che nel momento in cui prendi questa spazzatura che poi legalmente non credo che non sia possibile fare perché sposti i rifiuti e mai rifiuto quando lo prendi deve andare in discariche autorizzate, quindi anche se lo fai il comune è diventato un problema, ma provochi poi un inquinamento e rischi di inquinare se lo metti su un terreno diciamo naturale senza che venga realizzate le famose vasche che poi raccolgono quello che è la spazzatura, butta via il liquido, quindi quello diventa poi un ulteriore rischio di inquinare la falda, inquinare il terreno, quindi fare un ulteriore danno ambientale perché poi sappiamo che spesso da noi le cose temporanee come magari pensava le spostiamo per uno o due giorni in attesa di diventano poi, non dico definitive, ma poi ci vogliono mesi prima che... perché la mettiamo lì e poi dove la portiamo? Allora forse è più logico fare una proroga e aprire la discarica... Di prossimità... Nei prossimi giorni... Da un'emergenza all'altra, Sandro Amaro, chi deve reggimentare, chi si deve occupare della reggimentazione delle acque piovane? Parliamo ovviamente del canale di Gronda che è rimasto un sogno per i catanesi da più di 50 anni. Anche questo è un altro tema che in questi giorni, con questo alluvione che c'è stata, mescolato con la spazzatura, ha fatto un po' di risonanza. Ha aumentato ancora di più le difficoltà perché ovviamente quando hai una città dove oltre al deflusso di queste acque in maniera... pur avendo il comune anticipatamente pulito tutti i tombini, anche lì ci sarebbe anche da vedere le dimensioni di questi tombini che noi abbiamo, che con queste... io ero in ufficio, quindi zona all'Archi della Marina e quindi ho visto quanto acqua scendeva da Via Dusmet e come i tombini rispondevano fino a un certo punto al far defluire le acque, però è arrivato fino a quando poi non ce l'hanno fatto più, sia perché si ossurivano di quello che poi noi stessi cittadini che ce la vendiamo, buttiamo a terra, le carte, le cose, sia quello che l'acqua ha portato dalla spazzatura, ma proprio la dimensione di questi tombini probabilmente non sono più sufficienti per smaltire queste grandi quantità di pioggia. Probabilmente bisognerebbe ampliare queste superfici magari allungando lungo la strada e sicuramente poi quello che è il canale di Gronda è un altro tema importante, ma anche lì manca una programmazione, perché se il canale di Gronda è un elemento essenziale, fondamentale per la città di protezione, non si può pensare che ci vogliono 30 anni e che tu dai finanziamenti a lotti, a pezzi. Bisognerebbe avere il coraggio e la visione di dire, ci serve il canale di Gronda, quanto soldi si piglia, si investe per completarlo, perché se no non ha senso. Io ricordo tanti anni fa abbiamo fatto, facevamo delle verifiche in alcuni comuni per dei lavori fatti con i fondi europei di fognatura all'interno dei comuni e quando abbiamo avuto i lavori tutti fatti, ho chiesto così per curiosità, ma questa fognatura avete fatto funziona? No, ancora no, perché deve essere collegata agli altri tratti, quindi si era fatta una parte di fognatura, ma non completa e quindi non si poteva mettere in funzione. Ma che logica ha spezzettare un finanziamento di 10-20 miliardi per dare 2 miliardi a una logica di altro tipo, di spezzettare un finanziamento per farlo in 3-4 comuni, forse sarebbe più logico darli tutto a un comune, ma partire da dove tu hai il collegamento e cominciare a salire, perché quello che fai lo puoi mettere subito in funzione. Se io faccio una fognatura a monte, ma non ho il collegamento valido dove devo scaricare, ho speso dei soldi, magari il sindaco avrà gli applausi dei cittadini perché hanno fatto un lavoro, però poi dal punto di vista funzionale diventa un problema, le famose cattedrale, quando si costruivano le strade, prima si facevano i piadotti e poi restava tutto fermo, quindi lì manca una programmazione sugli interventi, però capisco che poi dal punto di vista, tra virgolette, politico, dà più visibilità a dare un finanziamento, cioè dare finanziamenti a 5 comuni che non darne a uno, insomma, però bisognerebbe entrare in un'ottica proprio di mentalità di fare le opere per renderle subito funzionali, anche se sono fatti a lotti, ma lotti funzionali. Anche perché questa città aspetta il piano regolatore generale dal 1969, al quale si lega, queste sono le immagini della devastazione dell'alluvione del mese di ottobre 2000. Sì, lì poi c'è stato anche questo problema del porto, ho visto qualcuno che si è lamentato del muro del porto che blocca, anche lì non è, capisco che associazioni, perché poi ormai con i social tutti danno, tutti diventano, come ogni volta ci sono i virologi, poi ci sono gli esperti di idraulica, vero è che il muro in qualche modo blocca, però nemmeno si può pensare, anche perché il muro in una parte c'è perché c'è un dislivello tra la via che sto a Ferrocolombo e il porto, quindi non puoi lasciarlo allo stesso livello, hai bisogno magari non di un muro, ma non si può nemmeno pensare che quando c'è così l'acqua allaghi anche il porto e finisca a mare. In realtà bisognerebbe avere un impianto, fognare di raccolta acqua corretto, probabilmente lì non sarà sufficiente anche per il grosso quantito di acqua che arrivava da parte del monte, che sono le griglie dove c'è la rotonda sotto gli archi stradali dove lì iniziate a riempirsi e quindi se i tombini non sono sufficienti o se poi si otturano perché l'acqua trasportandosi poi ostruisce queste griglie è ovvio che si riempie, quindi anche lì probabilmente bisogna capire che tipo di intervento fare, perché io potrei dire la cosa più banale, riempiamo la vietnea di pozzi perforati, perché ovviamente se siamo sulla lava appena tu fai un buco l'acqua se ne va subito, tanto tutta la città fai con pozzi perdenti e non si è mai allagata, ma questo crea un problema che tu non puoi fare pozzi tripellati che assorbono l'acqua perché l'acqua delle strade è un'acqua che contiene poi diciamo tutta una serie di grassi e cose varie e poi inquini anche la falda, quindi le soluzioni empiriche si trovano, però dobbiamo fare soluzioni che non risolvono un problema e fanno un altro danno, serve un po' e un po' di visione, nel progetto generale per esempio del canale Vigronde di questa raccolta certamente non sta all'interno del piano regolatore di Catania, ma dovrebbe stare all'interno di quello che è il piano, una volta che non ne sono mai esistiti, un piano territoriale di coordinamento tra vari e tanti comuni, perché in realtà ricordiamoci che poi Catania, cioè noi la vediamo come metropoli, ma la metropoli c'è nel momento in cui tu metti dentro tutti i comuni e allora nel piano intercomunale diciamo che raccoglie l'area metropolitana, perché ripeto qualcuno del sindaco bianco parlava di questo piano dell'area metropolitana, che in realtà non esiste dal punto di vista normativo, ma sicuramente dal punto di vista delle infrastrutture, degli elementi, è qualcosa che si dovrebbe fare e completare in maniera che si raccolga a monte le acque e che possono essere fatte di pulire. Poi ovviamente negli anni con le costruzioni, all'aeroporto si sa sempre che il villaggio Sant'Americoretti si allaga, d'altra parte essendo al livello del mare o probabilmente quell'area sotto il livello della quota del mare. C'è anche il torrente Forcile. C'è il torrente, è ovvio che si allaga. Infatti prima che lo costruissero qualcuno disse io in quest'area non costruisco, dico non c'è più, lo dico perché me lo raccontava mio suocero che quando lavorava lì se si avevano offerto quell'area lui non vuole costruire allora perché immaginava questi problemi. Però anche lì si allaga sempre e non si è mai trovato una soluzione. Ci sono tante alla zona industriale che posizionata è una vergogna. Però quando tu la posizioni in un'area che si chiama Pantano Darci sai che un pantano appena scavi c'è l'acqua, quindi quando piove. Quindi anche lì le scelte ormai sono state fatte. È ovvio che il piano regolatore, che so che è in corso perché non si sa ma ci stanno lavorando, ci saranno a breve degli ulteriori. So che ci sono degli incontri proprio per portare avanti. Non so se arriveranno a completare. Io mi auguro sempre perché poi è vero ma ogni sindaco arriva al piano regolatore pronto e poi cade la giunta e si riparte da zero. Devo dire che in sede di campagna elettorale tutti i sindaci parlano del PRG. La nostra regia ci propone adesso un titolo a proposito del PRG, fermo dal 1969, Piccinato. Piccinato. Piccinato, ricordiamo bene. Ecco, città indifferente. Diceva Sandro Amaro che probabilmente, anzi sicuramente ci stanno lavorando in silenzio, insomma qualcosa si muove. Sì, sì, sta lavorando il Comune, ci saranno tutta una serie di procedure che devono essere eseguite, a breve ci saranno degli incontri pubblici proprio su questo tema, perché l'ufficio sta lavorando. Ovviamente con quelli che sono i mezzi e il personale, perché ricordiamoci che un'altra questione che un po' blocca, diciamo ovunque rallenta, è la mancanza di personale in tutti gli uffici ormai. dopo, dico alla regione, gli ultimi tecnici sono stati assunti con il concorso nell'89, 86 assunti nell'89 in tutta la regione siciliana. Poi gli altri assunti sono stati assunti, i precari eccetera, che poi man mano sono stati assunti con categoria A e B e quindi magari ci sono molte categorie A e B che fanno il lavoro che dovrebbero fare, perché magari sono diplomati, ma era l'unica categoria che si può assumere senza bisogno del concorso, però in realtà, tant'è che per il PNRR stanno cercando professionisti per questi progetti. Anche lì, con contratto a tempo determinato, beh, anche questa è una cosa che non so quanti chiuderanno gli studi per andare a lavorare per tre anni e poi si ritrovano poi. Quindi forse dovrebbero anche pensare che è necessario ringiovanire, rimpinguare, se si vuole continuare, se vogliono portare avanti dei progetti, perché poi diventa difficile. Quando tu ti occupi di tutt'altro e la mattina ti chiamano e ti dicono che devi fare questo progetto. Certo. Non è semplice. Non è un gran bel momento e lo ribadiamo, lo abbiamo detto, lo ribadiamo ancora e non ci stancheremo mai di dirlo, servono capacità e competenze. Ormai non è più possibile improvvisare, non è più possibile vivere alla giornata. Bisogna avere una minima visione di come dovrà essere questo territorio, questa città, questa regione nei prossimi, quantomeno cinque anni, non dico dieci anni, anche se sarebbe più importante dire dieci, vent'anni. Importante sarebbe dire venti, venticinque. Esatto, ma... Come fanno le altre città? Io non mi azzardo a dire questo. Cinque anni sono pochi perché... Dico, ma almeno, dieci anni sarebbe l'idea. Dico, la città non ha, se parliamo del piano regolatore, sicuramente il piano non prevederà ulteriori aree di volumetrie perché ce ne abbiamo tantissime, abbiamo molto da rigenerare. Alcune cose si stanno vedendo col 110, ci sono una serie, anzi si stanno cominciando a vedere un po' di cantieri. Quindi speriamo che questo... Bonus. C'è stato il bonus, la proroga, che diventi strutturale però perché la difficoltà che c'è in questo momento è quello delle scadenze che viene rinnovate di anno in anno, della difficoltà di trovare, perché ormai molte imprese, anche tecnici hanno tanti in carica, quindi la difficoltà anche di reperire i materiali. E lì l'altra cosa su cui ovviamente noi, io dico, tra virgolette, ci sentiamo più furbi, i prezzi sono andati alle stelle, invece, perché ovviamente non c'è più la, tra virgolette, concorrenza di cercare, essendo il privato che paga, chi me lo fa pagare di meno? Paga lo Stato, quindi non c'è problema. L'altro giorno vedevo un servizio delle Iene dove su tre torri uguali, stessi edifici, costituito al stesso periodo, una è costata 400 mila euro col bonus e l'altro un milione di euro, e lì hanno fatto un'inchiesta che dice come mai, e lì si capisce che poi anche per noi è un errore fare i furbi, perché poi ovviamente lo Stato magari il bonus lo leva. E credo che quando si fa un bonus così al 110, forse è tanto, perché il cittadino non avendo un esborso, non sta attento molto a quello che si fa, tanto noi non paghiamo niente, quello che fanno. Probabilmente un'aliquota, come si sente parlare, il 75% strutturale, quindi una piccola quota la paga anche il proprietario, può incentivare sempre, perché poi alla fine la manutenzione serve per salvarci la vita, perché ricordiamoci che non è soltanto un problema di efficientamento energetico, ma anche di messa in sicurezza dei nostri edifici. Dobbiamo andare a chiudere, poi dovremmo anche parlare di Catania, della classificazione a rischio 2, per quanto riguarda appunto il rischio sismico, e questo dato è spesso sottovalutato in questa città, in questo territorio, ma avremo modo di parlarne, perché è importante anche questo argomento, quello del rischio 2, che per alcuni coefficienti non è uno. Sì, la classificazione sismica, no, Catania è già, diciamo, il suo coefficiente, la classifica già come se fosse in prima categoria. Esatto, come l'Aquila e come altri centri, quindi è una delle città più alto rischio. Da un punto di vista formale non è stato, stanno facendo la microzonizzazione per questa classificazione, che poi modifica un po' la modalità di calcolo per la nuova costruzione e anche per la riqualificazione del costruito. Però ricordiamoci che allora, mentre oggi ci stiamo battendo per portare, o perlomeno si sta discutendo anche da tempo, per portare Catania in classe 1, negli anni si faceva di tutto per evitare, fino all'81, quando poi è stata inserita, di farla inserire tra le zone sismiche e falsificate. Quindi credo che abbiamo molto da sostituire invece gli edifici e ridurre il consumo di suolo. Questo è fondamentale. Per migliorare anche la condizione... Questo è un suggerimento per il PRG anche? Sì, ma ne abbiamo tante volte parlato con l'amministrazione che su questa cosa sta lavorando e devo dire che questa amministrazione si è impegnata molto, però ovviamente con le difficoltà che ha tra di stesso, eccetera. Sicuramente la riduzione del consumo di suolo e anche l'idea che si possa, ci sono state molte critiche su questi interventi di demolizione e ricostruzione con edifici alti, ma che in realtà ti possono fare recuperare suolo, che può rendere nuovamente, tra virgolette, suolo verde, e aumenta le superfici che possono assorbire le piogge, togli cementificazione, facendo gli stessi volumi con una superficie piccola andando in altezza. Quindi con le costruzioni in... Costruzioni in altezza. Non c'è, molti, non ci stanno a Catania, non è vero, ci stanno in tutte le città, dobbiamo avere solo l'abitudine di vederlo. Io ripeto sempre, quando nei secoli sono passate i vari tipi di architettura, quando c'era il neoclassico e poi Bernini cominciò col barocco, in Sicilia arrivava il barocco, tutti lo contestavano. Oggi non lo tocchiamo. A Parigi, quando lo struirono la tour Eiffel, è successo uno scandalo, oggi nessuno penserebbe di togliere la tour Eiffel. Quindi le novità creano sempre un problema. Dobbiamo abituarci anche all'architettura, alla nuova architettura. Lasciamo le emergenze, abbiamo 60 secondi o poco più, andiamo un po' sul personale con l'architetto Sandro Amaro e vediamo questa fotografia che arriva dalla Tanzania, o Tanzania che dir si voglia, dalla Tanzania, eccola qua, ed è dal parco giochi Ilula, realizzato con un progetto del Rotary Club. Dei Rotary. Dei Rotary, c'è anche Bronte se non sbaglio. Diciamo che il Rotary ha fatto un progetto, ti ringrazio per questo, non lo sapevo, e quindi mi fa piacere che tu... Da intitolare a Carlotta Reitano, all'indimenticata Carlotta Reitano. Sì, hanno finanziato il Rotary, ha fatto questo progetto a Ilula per la scuola, Pulmini e tutta una serie di altre cose. Quindi questo parco giochi per i bambini disabili, a Ilula, e il Rotary di Bronte, dove mia moglie era socia, ha finanziato proprio questo parco giochi intitolandolo a Carlotta. Poi vabbè, personalmente poi abbiamo contribuito per integrare come famiglia altre cose, ma ci sono tutta una serie di altre attività che stiamo facendo. E ne parleremo. Se avremo modo, quando vorrai magari, di parlarne... Assolutamente. Ti anticipo che ho chiesto anche di fare qualcosa che resti in città, vediamo se riusciamo a organizzarla. Bene. Grazie per questo pensiero. È stato un piacere, Sandro. Anche per me sono sempre a vostra disposizione. Grazie, grazie all'architetto Sandro Amaro, già presidente dell'Ordine degli Architetti di Catania, che tornerà a trovarci presto qui all'interno dell'informazione raccontata a cura della redazione di Siclabress. Se l'usigullotta è pronta, possiamo andare in sicla. Grazie.